Adesioni superiori ad ogni previsione, con punte dell'80% allo sciopero nazionale dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. La stima è dei sindacati medici. Le sigle sindacali hanno diffuso una nota. La partecipata adesione, che al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze, ha toccato punte di adosione dell'80%, il sit-in a Roma davanti al Ministero dell'Economia, le altre 50 iniziative simili organizzate per l'Italia testimoniano coscienza dell'importanza della posta in gioco. Vale a dire, sottolineano, contrastare una condanna morte annunciata della sanità pubblica che sta travolgendo insieme i diritti dei cittadini che vedono sottrarsi prestazioni giorno dopo giorno o trasferirle a carico delle loro tasche e quelli dei medici e dei dirigenti sanitari, dei quali il ruolo, dignità e valori professionali sono marginalizzati in una logica di abbandono. Una giornata nera per la sanità che ha scelto questa protesta per far sentire la sua voce e portare l'attenzione verso un settore indispensabile per la comunità, un settore che sta soffrendo da troppo tempo. I camici bianchi contestano l'insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo Sanitario Nazionale 2018, eseguità delle risorse assegnate ai contratti per i ritardi nei processi di stabilizzazione del precariato.